C'ho il cervello in giostra, che è tutto in... C'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, c'ho il cervello in giostra, che è tutto in... Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo in un nuovo video dove vi parlerò di un contest, ragazzi. È passato tanto tempo, ho deciso di fare con Foxmaster, con il grande Foxy Seta, che lo chiamo così, un nuovo contest sulle intro. E visto che siamo anche in periodo natalizio, ho detto, dai, facciamo un altro contest. Chiaramente ci saranno tre primi, ragazzi. Primo posto, vincerete una intro 3D con la sync, proprio syncata bene. Secondo posto, un'altra intro 3D senza sync, quindi quella è un po' più lente. E terzo posto, vincerete una intro in 2D, quella è un po' più soft, diciamo così. Niente ragazzi, i requisiti per partecipare sono veramente semplici. Ve li dico subito. Iscriversi al mio canale, lasciare un like a questo video. Scrivere partecipo sotto al video, ragazzi, una volta. Se lo mettete due volte, verrete esclusi dal contest. Dovete seguirmi su Instagram, link in descrizione non è obbligatorio, sempre se ce l'avete. Entrare nel mio canale di Telegram, se ce l'avete, e iscrivervi a Foxmaster, ragazzi. Molto semplice. Ricapitolando, lasciare un like a questo video, iscrivervi al mio canale, commentare con scritto partecipo una sola volta, seguirmi su Instagram, se ce l'avete, e entrare nel mio canale di Telegram, se ce l'avete, e iscrivervi a Foxmaster. È importante, ragazzi. Io controllo, quindi rispettate questi requisiti. Troverete tutto in descrizione di questo video. L'estrazione, ragazzi, la faremo il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Ho deciso di farlo così, visto che siamo proprio in periodo di festività, eccetera, eccetera. Quindi, ricapitolo anche i premi. Primo posto, un intro 3D con la sync, sempre scelta da voi. Secondo posto, intro 3D senza sync. Terzo posto, intro 2D di quelle chill, semplici. Chiaramente le intro le farà il nostro Mastro Fox, perché lui è veramente bravo. E niente, ragazzi, che dirvi? Spero che apprezzate questo contest. Commentate una volta con partecipo, mi raccomando, e seguite tutti i requisiti. Lasciate un like a questo video, assolutamente, e iscrivetevi al canale se volete altri contest. E niente, ragazzi, per questo video è davvero tutto. Lasciate tanti like, ci becchiamo, ragazzi. Al prossimo video, bella!